Verrebbe da dire che piovono polpette avvelenate sul comando di Polizia Municipale Pescara dopo le vibranti polemiche scaturite per il video girato e postato sui social d'Armando Foschi, consigliere della Lega e presidente della Commissione Sicurezza mercoledì scorso, nel quale si vedono i locali interni della caserma, della Guardiola e altri uffici completamente incustoditi. Ha atteso qualche giorno per replicare il comandante Carlo Maggitti, una volta svolti alcuni accertamenti interni, ma soprattutto una volta scoperto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che la realtà è leggermente diversa da come l'ha voluta manifestare Foschi. Non sono ancora le 20 quando Foschi arriva e si sofferma a parlare con un maresciallo in borghese che sta smontando, è un agente indivisa in servizio. Dopo un po' il maresciallo va via e Foschi entra con l'agente in servizio, esce dopo qualche istante e inizia a girare il suo video. Basta questo per dimostrare che la caserma non è vuota. Altra smentita, Foschi dice di aver girato per gli uffici mezz'ora, dall'orario della videosorveglianza invece scarsi due minuti. Smentito anche il discorso dell'armeria incustodita perché un'armeria vera e propria in caserma non esiste, ma solo un deposito temporaneo quando gli agenti rientrano e lasciano la loro arma. Ed allora, perché questo video denuncia? Io non guardo a nulla di personale. Se fosse stato per me come è successo già in passato, lì dove ho preferito non ricorrere alla stampa, oggi avrei fatto la stessa cosa. Oggi il mio, il nostro, è un grido a tutela della Polizia Municipale di Pescara. Ho diretto altri corpi, ho lavorato con tanti altri bravi agenti, bravi ufficiali. Non si può continuamente mettere alla berlina chi fa il proprio dovere e chi sta cercando di dare fondo a tutte le sue forze per dare una mano alla cittadinanza. Meno che mai da coloro poi che ci sono vicini, ci dovrebbero essere vicini in questo momento. E' ovvio che tutto ciò che ci diranno queste indagini dovrà essere poi indirizzato e vagliato in tutte le sedi competenti.